ben ritrovati e benvenuti se è la prima volta prima di iniziare a parlare dell'argomento di questo video vi ricordo di lasciare un like lasciare un commento ma soprattutto di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video dove giornalmente con Giuseppe e Lollo cerchiamo di portarvi dentro casa le notizie dei nostri colori nel nostro Milan quindi seguiteci sul nostro canale YouTube ma seguiteci anche in tutti i nostri canali social dove qui in descrizione troverete tutti i link Twitter Instagram Telegram Facebook TikTok praticamente siamo ovunque e di seguire soprattutto il nostro sito www.acminaninside.com per rimanere sempre aggiornati sul mondo rosso nero un'altra parentesi vi ricordo ricordo anzi alle ragazze o comunque al tifo rosa cosiddetto rosa quindi al tifo femminile la nostra particolare rubrica dedicata a loro Milanista Inside voi contattateci scriveteci su dove ci trovate su Instagram su tutti i canali social oppure mandateci un'email che troverete nel nostro sito che vorreste partecipare a questa rubrica poi noi vi contatteremo e praticamente consiste che attraverso una piccola intervista che so da dove è nato il vostro tipo per il Milan qual è il vostro giocatore preferito domande del genere una piccola intervista e una foto che ci invierete voi poi noi provvederemo a pubblicare il tutto sul sito e sui nostri canali social in modo carino praticamente per farsi conoscere quindi se l'idea vi piace se volete far parte di questa rubrica scriveteci e fatelo adesso detto ciò torniamo all'argomento principale di questo video che è quello del direttore di gara come sapete sabato 5 febbraio alle ore 18 ci sarà la cittadina milanese ci sarà quel derby che ancora una volta è tornato a essere un derby fondamentale per la stagione almeno per quanto riguarda la nostra stagione fondamentale perché ci potrà dire se effettivamente possiamo continuare a sognare continuare a lottare per quel sogno chiamato scudetto o se dobbiamo iniziarci a guardare alle spalle dove c'è anche rientro oltre all'atalanta a napoli e c'è anche il rientro dalla juventus dentro che dopo questo calcio mercato penso che la sfida diventa più avvigente perché purtroppo la juventus con gli acquisti zagaria e flow vici si è rinforzata ed è tornata deve essere temibile quindi speriamo bene andiamo a conoscere adesso il direttore di gara come avete letto come sicuramente avete letto nel nostro sito il direttore di gara sarà marco guida un arbitro quarantenne della sezione di torre annunziata dove iniziò la sua carriera appunto da arbitro a soli 15 anni nel 2006 fece il suo esordio in serie d dove ci rimase per tre anni quando nel 2009 poi fece il suo esordio nella serie cadetta per poi l'anno successivo e precisamente il 31 cennale nel 2010 esordire in serie a arbitrando chievo bologna dando nello specifico il signor guida ha arbitrato quattro volte il derby con un bilancio sfavorevole ai nostri al nostro milan in quanto con lui nel terby abbiamo ottenuto una sola vittoria e praticamente anche abbiamo tenuto anche debbi supplementari in una partita di coppa italia un pareggio e due sconfitte l'ultima appunto il 17 marzo 2019 data che risale anche al suo ultimo derby arbitrato partita che per tempo per 3 a 2 e per noi andarono a segno un bagaio poi musacchio mentre per gli altri che non nomino segnarono vesino devrai e l'autoro martinez l'arbitro guida sarà assistito appunto dei due assistenti arbitrali che saranno girocarbone e giorgio peretti mentre come quarto uomo ci sarà il signor matteo marchetti al bar il signor paolo silvio mazzoleni mentre come al bar sergio ranghetti detto ciò vi ricordo di seguirci di nuovamente su tutti i nostri canali social sul nostro canale youtube sul nostro sito www.cminaninside.com e ricordo la rubrica milaniste inside dedicata al tifo rosso nero di color rosa quello delle donne detto ciò vi auguro un buon proseguimento di giornata e sembra forza milan di giornata e sembra forza milan inglazio